Ciao ragazzi, sono Antonio e sono un tutor GiaSchool. Oggi vediamo come risolvere le espressioni algebriche, ma prima di iniziare ti invito a visitare il sito GiaSchool.it dove troverai tutte le altre lezioni sulle espressioni e gli altri esercizi di matematica, oppure clicca sul link in descrizione. Inoltre ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere video lezioni e contenuti GiaSchool. Bene, iniziamo con un semplice esercizio per capire da dove si comincia con le espressioni. Scriviamo 8 più 3 meno 7 più 2 meno 1. Quello che devi sapere è che quando ci troviamo davanti ad un'espressione algebrica e nella stessa ci sono sia i segni dell'addizione che della sottrazione, non dobbiamo seguire un ordine specifico, ovvero possiamo operare da dove vogliamo, a differenza di quelle espressioni in cui troviamo addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni, ma questo lo vedremo più avanti. Procediamo intanto con questa e calcoliamo. 8 più 3 fa 11, quindi scriviamo 11 e poi trascriviamo tutto il resto. Meno 7 più 2 meno 1. Adesso c'è 11 meno 7 che fa 4, dunque possiamo scrivere 4 più 2 meno 1. Ora dobbiamo fare 4 più 2 che fa 6, quindi proseguiamo e scriviamo 6 meno 1. Infine abbiamo che 6 meno 1 fa 5, dunque il risultato finale è 5. Bene, adesso introduciamo le moltiplicazioni e divisioni. Vediamolo con un esercizio. 3 per 5 meno 7 per 2 più 6. Intanto al posto della crocetta si usa il punto. Se sei ancora nella scuola primaria userai il per con la crocetta. Bene, torniamo all'esercizio. Devi sapere che in un'espressione bisogna sempre risolvere prima le moltiplicazioni e divisioni, successivamente addizioni e sottrazioni. Dunque dobbiamo prima calcolare 3 per 5 che fa 15 e poi 7 per 2 che fa 14. Quindi possiamo scrivere 15 dato da 3 per 5 meno 14 dato da 7 per 2 e infine trascriviamo più 6. Adesso siamo in un caso simile al precedente. Abbiamo infatti solo addizioni e sottrazioni. Possiamo quindi procedere al calcolo. 15 meno 14 fa 1. Quindi scriviamo 1 e ora trascriviamo il più 6. Ecco, abbiamo quasi finito. Non ci resta che calcolare 1 più 6 che fa 7. Dunque il risultato dell'esercizio è 7. Bene, ora facciamo un altro esercizio per consolidare i concetti. Scriviamo 3 più 5 per 2 meno 12 diviso 3. Ti ricordo che dobbiamo risolvere prima le moltiplicazioni e divisioni, successivamente addizioni e sottrazioni. Qui possiamo vedere che abbiamo 5 per 2 che è una moltiplicazione e 12 diviso 3 che è una divisione. Quindi, per procedere con questa espressione algebrica, trascriviamo prima 3 più, che calcoleremo dopo, e poi, come vuole la regola, 5 per 2 che fa 10. Quindi scriviamo 10. Poi trascriviamo il meno e dopo calcoliamo 12 diviso 3 che fa 4. Ecco, abbiamo risolto quindi tutte le moltiplicazioni e divisioni presenti. Ora possiamo risolvere addizioni e sottrazioni. Quindi facciamo 3 più 10, che fa 13. Dunque scriviamo 13 meno 4. Ora possiamo fare, appunto, 13 meno 4, che fa 9. Dunque abbiamo come risultato finale 9. Ripetiamo quindi il concetto fondamentale, cioè quello di calcolare prima le moltiplicazioni e divisioni, successivamente addizioni e sottrazioni. Ripetiamo quindi il concetto fondamentale, cioè bisogna prima fare il per e il diviso, dopo possiamo calcolare il più e il meno. Proseguiamo con un altro esercizio. 7 per 2 più 3 per 5 meno 8 per 2 meno 2. Bene, adesso vediamo che abbiamo 7 per 2, 3 per 5 e 8 per 2, ossia 3 moltiplicazioni. Dunque, come fatto in precedenza, svolgiamo prima le moltiplicazioni. Quindi, 7 per 2 fa 14, quindi scriviamo 14, più 3 per 5 fa 15, quindi scriviamo 15, meno 8 per 2 fa 16. Poi trascriviamo anche il meno 2. Ecco, adesso abbiamo solo addizioni e sottrazioni, quindi possiamo procedere al calcolo. 14 più 15 fa 29, quindi scriviamo 29 meno 16 meno 2. Ora possiamo fare 29 meno 16 che fa 13, quindi scriviamo 13 meno 2. Infine, calcoliamo 13 meno 2 che fa 11. Dunque, il risultato finale è 11. Bene, se vuoi vedere tutte le lezioni sulle espressioni ed altri esercizi di matematica, troverai il link in descrizione. Ti invito, inoltre, ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere video lezioni e contenuti jazz school. Per oggi è tutto, noi ci fermiamo qui. Se non hai capito qualche passaggio, riascolta la lezione con calma. Dal tutor Antonio è tutto, ciao!